Io ho citato qualche volta, parlando di questo libro, quella pagina di Flaubert sul berretto di Carlo Bovary. Flaubert impiega mezza pagina per descrivere questo berretto, tanto è complicato, ma infine conclude che somigliava alla faccia di un imbecile. Ora, molte delle cose complicate dei nostri giorni sono complicate in questo senso, nel senso della stupidità. Bisogna semplificare. Ci si arrovella tanto sul pensiero di certi uomini politici. Credo che ad un certo punto dovremmo fare la semplicistica operazione di dire che non pensano. Grazie. Grazie.